Il leader della Lega Radio 24 Il governo è uscito dal Consiglio dei Ministri, come il Superbonus, aiutando imprese e famiglie. Il Parlamento fa il suo lavoro. Altrimenti aboliamo il Parlamento. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta il caso degli emendamenti al mille proroghe su cui il governo è andato sotto quattro volte la settimana scorsa in commissione. C'è il rischio che la guerriglia parlamentare vada avanti? No, assolutamente. Chi occupa il tempo lavorando non ne ha per fare polemica, ha risposto Salvini, ospite di 24 Mattino, su Radio 24. Salvini, hanno fatto sapere nelle ultime ore da Via Bellerio, a giorni incontrerà Draghi. Dopo la strigliata di giovedì scorso e capidelegazione della maggioranza, il Premier sta incontrando separatamente tutti i leader dei partiti che sostengono il governo. Ha già visto Enrico Letta che gli ha riconfermato fiducia e sostegno e che ha richiamato i parlamentari DEM che in commissione hanno votato contro il governo sull'ILVA. Il 20 febbraio poi Draghi ha avuto un lungo colloquio telefonico con Silvio Berlusconi, il quale ha assicurato il sostegno di Forza Italia sdrammatizzando l'incidente sul mille proroghe. Adesso si attende l'incontro del Premier con Salvini, Conte e Renzi. Il 20 febbraio poi Draghi, Conte e Renzi.